Risk management, gestione del rischio. Oggi parliamo proprio di questo ingrediente fondamentale all'attività di ogni trader. Voglio parlare però di questo argomento non con le solite caratteristiche di cui si parla, quindi il discorso riguardante proprio la percentuale di rischio, tutta una serie di concetti che probabilmente avete già letto o comunque magari su cui vi imbatterete o vi siete già imbattuti, ma andare a prendere alcune secondo me caratteristiche molto importanti del risk management che però forse sono un po' sottovalutate dai più. Tra queste caratteristiche ce ne sono principalmente due che credo non abbiate mai preso in considerazione nella questione del risk management. Il primo è il rallentare. Rallentare fa parte di un corretto approccio al risk management perché mantenendo un'andatura lenta possiamo valutare meglio tutto quello che riguarda un'operazione, in primis i costi operativi di quell'operazione. Rallentare significa anche fare meno trading. Rallentare permette anche di rischiare di più nel singolo trade. Perché? Perché si riesce ad analizzare meglio la situazione, a capire meglio qual è il contesto di mercato e quindi fare meno trade, meno commissioni e quindi arrivo alla seconda caratteristica importante del risk management che è la qualità operativa, che in realtà sarebbe la prima caratteristica di cui oggi io vi volevo parlare. Perché il rallentare è un po' una conseguenza nel momento in cui il nostro trading diventa un trading di qualità. E infatti la qualità operativa penso sia la caratteristica fondamentale per un corretto risk management. Ovviamente io qui parlo di operatività discrezionale, non operatività fatta con sistemi di trading automatici o semi automatici, ma un'operatività discrezionale che ovviamente però è basata su regole e su un metodo che ha appunto le sue caratteristiche. La qualità operativa però devo dire che è un concetto molto astratto spesso non preso in considerazione da chi vuole avere un corretto risk management. Facciamo un esempio. Se io vado ad avere magari un approccio risk management molto conservativo e supponiamo vado a rischiare su ogni operazione lo 0,20% del mio capitale, quindi una piccolissima fetta del mio capitale. Però non ho una vera qualità operativa ed ogni volta che subentra una possibile caratteristica che mi può fare entrare a mercato entro. Quindi io rischio lo 0,20, lo 0,20, lo 0,20 senza andare a fare come dire un'analisi un po' più importante, un po' più approfondita che ci permetta di contestualizzare quella che è la situazione di mercato, ecco io in quel caso vado a sparare continuamente proiettili così sulla folla senza in realtà avere una precisa destinazione e soprattutto una precisa qualità. Diciamo che noi in Airforex con il nostro approccio che è ovviamente da price action trader, ma è un approccio anche volto assolutamente a rallentare e alzare nettamente la qualità operativa, ci sentiamo più degli sniper, quindi dei cecchini piuttosto che trader che sparano sulla folla e provano a fare trading e a magari mettere in cascina dei risultati positivi. Noi cerchiamo di utilizzare la qualità come primo elemento del risk management. Ovviamente come dicevo prima si rallenta perché se tu cerchi la qualità e utilizzi 6-7 mercati costantemente, quindi non fai tutto perché diciamocelo se tu vuoi fare tutto sui mercati e quindi vai a cercare i segnali, vai a cercare le opportunità, sicuramente le trovi. È ovvio che se invece sai già cosa vuoi vedere e vai solo a sparare quando c'è ciò che in effetti tu volevi vedere e non spari immediatamente appena c'è qualcosa che vuoi vedere, ma ti dai il tempo, quindi rallentando anche per capire se quello che tu hai visto, se quello che si è venuto a creare sul mercato era davvero quello che avevi preso in considerazione per fare quel determinato trade, allora la cosa cambia. E ovviamente il risk management, la gestione del rischio diventa assolutamente diversa, perché io per esempio potrei decidere di rischiare una percentuale maggiore del mio capitale, come dicevo anche poco poco fa, perché la qualità operativa del mio trigger è maggiore, quindi invece di rischiare uno 0,20, uno 0,30, uno 0,5 posso anche decidere di rischiare di più, quindi di aumentare la mia size, aumentare la mia esposizione sul mercato, perché già c'è un filtro di risk management relativo alla qualità. Poi è ovvio che anche il setup migliore, anche il miglior trigger può fallire e quindi anche quello può essere chiuso in perdita. Non sto dicendo che il setup di qualità va a negare la possibilità di non perdere, ma sto dicendo che sicuramente un buon filtro della qualità può permetterci, parla anche la mia esperienza, di filtrare tantissimo il rischio iniziale. Anche perché ricordiamo che perdere denaro ha non solo un impatto economico, quindi nel nostro conto di trading per quanto riguarda il concetto proprio del capitale perso e quindi dei soldi persi, ma ha soprattutto un impatto emotivo. Quindi quando facciamo trading dobbiamo farci delle domande e dobbiamo capire quanto rischiare in base alla qualità di quel trigger, se vogliamo in realtà rischiare e quindi investire del denaro su quella determinata situazione che magari abbiamo studiato da un po' perché abbiamo rallentato e abbiamo utilizzato la qualità operativa come primissima caratteristica di una buona forma di risk management. Dobbiamo arrivare ad evitare che la speranza diventi una strategia operativa e per evitarlo dobbiamo avere prima fatto delle analisi e delle view e aver visto su quel mercato delle cose e poi solo dopo una conferma avere tradato e quindi si ritorna sempre sul concetto di rallentare e di qualità operativa. In questo video non voglio parlarvi poi di quanto sarebbe più corretto rischiare di questo di quello delle tabelle sul rischio, no! Io vi sto parlando di concetti proprio più base, più fondamentali perché spesso non vengono assolutamente presi in considerazione da chi fa trading. Quindi il concetto è rallentiamo, meno operazioni, meno commissioni e più qualità operativa. La qualità permette di filtrare il rischio. Anche per oggi è tutto, io ovviamente vi chiedo di lasciare un mi piace su questo video, di iscrivervi a questo canale, di attivare la campanellina se non l'avete ancora attivata così da rimanere sempre connessi con noi e con i prossimi video, le prossime live. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!